Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida breve, io sono Altair e oggi vi mostrerò dove trovare il forziere opulento nei giardini del piacere presidiato da un compagno leale. Spero di esservi stato di aiuto e se fosse così vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao!